Eccoci di nuovo in studio, grande successo per l'anteprima di stagione dell'ente concerti dei Carolis di Sassari sul palco dell'auditorium. C'è stato un duo pianistico di eccezione, Michele Campanella e Monica Leone. E per noi c'era Manuela Mozzo. Sono stati richiamati sul palco dalla platea entusiasta per ben tre volte. Michele Campanella e Monica Leone, i due nomi d'eccezione del pianismo internazionale hanno duettato venerdì all'auditorium comunale di Sassari, segnando il successo dell'anteprima di stagione dell'ente concerti Maria Lisa de Carolis. I due artisti per oltre un'ora hanno coinvolto il pubblico in un concerto basato su una delle pagine più belle della letteratura musicale, la Sinfonia numero 9 in re minore, opera 125 di Beethoven, trascritta per due pianoforti da Franz Litz. Il direttore artistico dell'ente Alberto Gazzale ha introdotto la serata anzitutto con un pensiero rivolto ad Antonio Bisaccia, il direttore dell'Accademia Sironi appena scomparso ricordandolo come un cardine della comunità. Dopo è stata la volta di accogliere sul palco i due artisti. Campanella ha prima presentato il programma e sottolineato come Leone sia stato il più grande pianista della storia, una sorta di rock star della sua epoca e che ha visto proprio nella trascrizione della nona il momento più impegnativo della sua carriera. Attraverso i maestosi pianoforte a gran coda il duo ha espresso quindi tutta la grandiosità delle note immortali del compositore tedesco anche grazie a una palpabile empatia artistica. Dopo questa grande apertura la stagione sinfonica proseguirà il 7 maggio con il violinista Massimo Quarta che proporrà un programma dedicato a Mendelssohn. E ora ad Arzachena per scoprire il programma dell'amministrazione comunale per il lunedì di Pasqua a Cannigione sul palco ci sarà il supereroe dell'Ariston. Vediamo. Supereroe come io e te se avrai paura allora stringimi le mani perché siamo indicibili vicini e ovunque andrò sarai con me. Supereroe solo io e te due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole ci sono ferite che non se ne vanno mai. Mr. Ray da Sanremo a Cannigione per l'atteso concerto di Pasquetta che inaugura la lunga stagione degli eventi estivi della Costa Smeralda. Arzachena investe sul rap nazionale sardo scegliendo di portare sul palco il supereroe dell'Ariston e il collettivo Nuova Sardegna. Combinazione di barre e voci di quattro rapper sardi Razer Ra, Sgribatz, Lucchetto e Cage che portano avanti carriere da solisti all'interno della crew isolana. Ad aprile la giornata del 10 aprile sarà Pippo Palmieri, conduttore radiofonico e DJ di Radio 105. Un appuntamento che ormai si consolida da diverso tempo. Oltre a Mr. Rayna avremo il DJ Pippo Palmieri e anche il collettivo Nuova Sardegna. Abbiamo cercato di accontentare un po' tutti i target proprio perché il nostro visitatore va riega alto. Il via alle 16 del lunedì di Pasqua sul palco fronte mare di Canigione. E ora lo sport, il calcio, un pareggio e una sconfitta per le due squadre sarde che militano nel girone B di Serie C. La Torres ferma la corsa dell'Ancona al Van Nissanna, invece l'Olbia cade di misura sul campo del Cesena, terzo in classifica. Sentiamo il servizio di Francesco Arezzo. Due punti di vantaggio sulla sedicesima posizione e un cammino nuovamente a braccetto, sempre in bilico sul precipizio chiamato lotta play-out. Torres e Olbia mandano in archivio il 34esimo turno di Serie C con un pareggio e una sconfitta rispettivamente contro Ancona e Cesena. Due partite alla vigilia complicate con il verdetto del campo che ha confermato in pieno le attese. L'1-1 colto d'aereo su blu al Van Nissanna nella gara che ha sancito il ritorno di Alfonso Greco sulla panchina torresina è certamente un buon risultato. Scott e compagni hanno saputo rimontare l'iniziale svantaggio segnato dall'ex Juventus di Massimo dopo 12 minuti, con una reazione vehemente fin da subito, ma il palo ha detto di no al sinistro di Dametto. Nella ripresa l'Ancona avrebbe potuto chiudere il match, ma lo stesso di Massimo ha calciato fuori un calcio di rigore, dando fiducia alla Torres che ha continuato a spingere fino al 59esimo, quando Saporiti è trasformato in gol la magia di Scott. Nel finale il rosso-blu avrebbero potuto anche vincere, ma né Omoregbe né Diakite sono riusciti a trovare il gol. Sul fronte Olbia invece il capo di misura ha subito a Cesena, è un risultato che ci può stare alla luce del valore dei romagnoli impegnati sulla rincorsa al primo posto occupato dalla Reggiana. Senza dessene due samarinesi, Fabri e Nanni, Occhiuzzi ha presentato il canonico 3-4-2-1 con Corti, pivoto offensivo e un Olbia attento a chiudersi e pronto a pungere in ripartenza. L'unica vera occasione del match per i bianchi è capitata però sul calcio piazzato, quando Corti ha sprecato di testa da ottima posizione. Il muro eretto dei Galluresi è rimasto in piedi fino al 74esimo, quando un errore di Bellodi, fino a quel momento tra i migliori, ha spalancato l'aria Chiarello, che con astuzia ha superato Sposito firmando l'unico gol della gara. Una sconfitta quasi in dolore per l'Olbia con i bianchi già concentrati sullo spareggio salvezza di sabato. Al Nespoli contro l'Alessandria, una gara da non fallire assolutamente per Emerson e compagni, che dovranno vincere per portare dalla propria parte il bilancio degli scontri diretti e soprattutto mettere ulteriore distanza tra sé e i grigi, ora lontani tre punti. E c'è stata una nuova sconfitta per l'Ermea Olbia che si è resa per 3-0 al San Giovanni in Marignano, rinviando ancora la conquista dei primi punti nella polpromozione della 2 femminile di pallavolo. I dettagli nel servizio. Niente da fare per l'Ermea Olbia che incassa una secca sconfitta a Casalinga per 3-0 contro il San Giovanni in Marignano e resta a bocca asciutta nella polpromozione della 2 femminile di pallavolo. Un incontro nel quale la squadra isolana ha quasi sempre dovuto inseguire le ospiti, capaci nel primo set di allungare dal 21 pari al 25-22 con gli attacchi Iraconsca e Bolzonetti. Anche al rientro in campo sono state le romagnole a prendere il largo dopo i primi scambi, gli olbiesi si sono rifatte sotto fino al 18-19, ma di nuovo la maggiore decisione delle avversarie ha avuto la meglio per 25-20. Le ragazze Idino Guadalupi hanno provato a riaprire il match nel terzo parziale, portandosi avanti fino al 17-13, ma la reazione di Cafuri e compagni non ha tardato ad arrivare e dopo il pareggio sul 18 pari con Perovic è arrivato il nuovo allungo fino al 25-22 con le schiacciate della matchwinner Bolzonetti. Ci aspettavamo partite di questa difficoltà. Oggi si è visto a tratti un buon atteggiamento, però alternato a tanti blackout e purtroppo non siamo riusciti poi a riprendere nel punteggio per provare a strappare anche solo qualche punto. Ora l'Ermè ha altre tre occasioni per provare a muovere la classifica della pool. Lunedì 3 aprile ancora in casa contro il Talmasson e nella doppia trasferta dell'8 e del 16 a Martignacco e Soverato. Impegni complicati, ma è comunque importante provarci. Questo era l'ultimo servizio e quindi è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi rinvio alle prossime edizioni e ovviamente vi ringrazio per essere stati con noi. Arrivederci. TG Live, telegiornale regionale della Sardegna.